Finisce 1-1 la gara fra Gian e Inter, siamo con Daniele Bontempi, il capitano della Gianna, allora un pareggio è arrivato alla fine ma direi ampiamente meritato. Sì, ampiamente meritato, abbiamo giocato alla pari, abbiamo concesso ma abbiamo anche creato tanto e giusto risultato di pareggio, va bene così. Primo tempo insomma molto equilibrato, prima mezz'ora e secondo tempo, insomma avete sbriato due o tre occasioni, sembrava che potevate farcela passare in vantaggio. Sì, sembrava che potevamo farcela ma oltre i primi minuti del secondo tempo, anche durante il primo tempo, però abbiamo sbagliato, abbiamo fatto gol e il risultato è arrivato. Due o l'arrivati su due, insomma, a dire le cose come sono due papere. Eh sì, va bene così però nel calcio succede, capita e va bene così. Comunque rimane alla fine l'ottimo campionato della Gianna che si sta concludendo, anzi è ancora ben lungo da concludere però sta andando molto bene. Sì, sta andando molto bene, adesso puntiamo a qualificarci nella posizione migliore per i playoff e poi cerchiamo di arrivare il più avanti possibile nelle finali.